carissimi amici benvenuti a questa seconda puntata di edp tech oggi vi presentiamo il nuovo bolide del nostro amico enrico l'oridore di san pietro incariano classe 95 è uno scalatore all rounder con spunto veloce come dimostrano i suoi ottimi piazzamenti e la partecipazione ai campionati nazionali under 23 da poco prodato in canyon dopo l'esperienza con giant questa è la sua nuova canyon ultimate cf slx enrico è alto un metro e 74 ed il telaio della sua canyon è un taglia 54 telaio dal peso record di 780 grammi come gruppo lo scalatore ha montato il nuovissimo shimano ultegra d2 elettronico a 12 velocità con tecnologia wireless hyperglide plus le corone sono le classiche 52 36 ed i pedali sono luke keo blade le ruote sono le bellissime di t swiss con profilo in carbonio da 50 mm equipaggiate in questo allestimento con copertoncini swalbe pro one solo sull'anteriore è presente la chiave magnetica di sgancio rapido della ruota utilizzabile però anche sulla posteriore la bici monta freni a disco idraulici ed i tubi freno unica componente collegata by wire con il manubrio sono perfettamente integrati nel telaio la sella e sella italia slr boost super flow e di regisella privo di collarino alla chiusura trapezoidale nascosta nel tubo verticale passando allo sterzo il manubrio è integrato canyon e le leve ultegra sono ruotate verso l'interno per una migliore ergonomia i due pulsanti posti alla sommità delle leve permettono di interfacciare il computerino garmi il telaio presenta colorazione all black con un deciso stacco tra effetto opaco e lucido ed il peso complessivo stimato della bici è di 7 kg se ti è piaciuto questo video lascia un mi piace iscriviti e commenta con la prossima bici che vorresti vedere presentata da noi di edp tech